Buongiorno a Vostromles, sono alla macchinetta del caffè, volevo sapere se avevate il nuovo caffè e basta, se avevate 60 centesimi per il frutto di caffè, ve lo faccio vedere, è la macchinetta del caffè, se avete 60 centesimi per il caffè, venite, va bene, è questo caffè, buona giornata.